Musica Benvenuti ad una nuova puntata di Stasera Italia e questa sera è una puntata davvero importante perché abbiamo l'onore di ospitare il Ministro del Lavoro per lo Sviluppo Economico nonché Vice Premier Luigi Di Maio grazie per aver accettato il nostro invito questa sera Grazie a voi, buonasera Grazie, grazie davvero il Ministro Di Maio ci illustrerà come intende cambiare pensioni e lavoro provvedimenti che tra l'altro lo vedranno protagonista nei prossimi giorni Io le devo chiedere scusa ma sento ancora il ritorno in cuffia di Cologno Monzese quindi c'è ancora il jingle Adesso non lo sento più, credo che abbiano tolto Perfetto, abbiamo sistemato anche il collegamento con il Ministro Di Maio speriamo che ci illustri questa sera alcune delle linee dei provvedimenti su pensioni e lavoro Prima di iniziare però voglio ricordare che è collegata in via del tutto eccezionale da Roma questa sera Veronica Gentili che mi ha lasciato solo nello studio Grazie Veronica per essere con noi questa sera Va bene, sei perdonata Ministro, prima di cominciare con il talk io però voglio farle vedere le parole ascoltare anche le parole del Ministro Salvini chi è andato in Libia a cercare di risolvere sarà un problema molto arduo il problema, un altro problema che è sul tavolo è quello dell'immigrazione Ascoltiamo Bloccare il business dell'immigrazione clandestina significa bloccare l'intervento dannoso e pericoloso di queste navi straniere Ufficialmente è il Ministro dell'Interno ma in realtà Matteo Salvini agisce a tutto campo parte per una missione lampo in Libia come un Ministro della Difesa incontra i militari italiani e libici lavora per bloccare l'arrivo di migranti e stringe accordi come un Presidente del Consiglio è al centro del dibattito politico ogni giorno Salvini è sempre più centrale nel dibattito politico a pochi minuti dall'inizio della conferenza stampa questi sono tutti i giornalisti accreditati con le truppe per ascoltare le sue ultime dichiarazioni La svolta è passare delle parole di fatti perché in Europa di dossier sono pieni i cassetti Il pugno duro di Salvini oscura il primato del governo del Presidente del Consiglio Conte un decisionismo che per alcuni rischia di isolare l'Italia nel palco scenico europeo per altri finalmente mette Francia e Germania davanti alle loro responsabilità Il Ministro francese è ignorante Una linea che piace agli italiani e che ha portato una balanga verde nelle ultime elezioni comunali fino a travolgere anche le ultime roccaforti di sinistra in Toscana Questa piazza è la miglior risposta ai rociconi di sinistra Ministro Di Maio, il vertice di ieri a Bruxelles si è chiuso senza un'intesa che in un clima di forte tensione da una parte l'Italia dall'altra Francia e Spagna Pensa che il viaggio di Salvini oggi a Tripoli possa innescare in qualche modo una soluzione? Il viaggio di Salvini sicuramente dà una mano al governo sul fronte libico perché lì dobbiamo cercare di fermare le partenze e c'è tanto da fare e il governo italiano è mancato in tutto questo periodo in cui si provava a formare il governo quindi è molto importante che ci sia però il vero dato politico è quello di ieri a Bruxelles perché il vertice non si è chiuso con nulla di fatto lo voglio dire a tutte quelle persone che ieri hanno seguito la vicenda ieri a Bruxelles si sono incontrati i capi degli stati europei e lì per la prima volta l'Italia è stata centrale tant'è vero che Juncker, il presidente della Commissione Europea ha dato prima di tutto la parola a Conte il nostro presidente del Consiglio che ha espresso la linea sull'immigrazione cioè che chi arriva in Italia arriva in Europa e non può essere solo un problema dell'Italia i migranti ha raccontato i dieci punti e gli altri hanno commentato su questo ma soprattutto abbiamo ottenuto una cosa qualche giorno fa qualcuno ci voleva propinare un accordo già scritto e noi dovevamo dire sì o no questo si faceva prima con i governi di prima quelli là che si prendevano la pappa bella e pronta e dicevano sì signore con noi non solo si dice no ma si strappano le cose già preparate le abbiamo strappate e abbiamo ricominciato con una proposta italiana perché l'Italia è l'unica che in questi anni si è sobbarcata davvero il problema dell'immigrazione in tutta Europa e quindi le proposte le fa l'Italia c'è stato un primo passo in avanti a questo punto di vista vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni ma finalmente l'Italia torna centrale ed è rispettata altro che isolata come dicono le opposizioni che l'Italia rischia l'isolamento noi ci siamo isolati dicendo sempre sì in questi anni adesso con qualche sano no otterremo tanti sì per gli italiani e allora le faccio subito un'altra domanda che riguarda proprio i prossimi giorni e le prossime ore che ne sarà della lifeline della nave cargo che ormai da giorni staziona davanti a Pozzallo so che è un argomento che stanno trattando Salvini da una parte e Toninei dall'altra lei che ne dice? lei si ricorderà che io un anno fa questa questione dell'ONG l'avevo posta e mi sono beccato tante di quelle critiche dicendo che ero un razzista e così via qui c'è un problema vero sull'ONG questa lifeline che è una di queste imbarcazioni di un'organizzazione non governativa che tra l'altro non si sa di chi batta bandiera cioè è una nave che ha la bandiera olandese ma l'Olanda ci ha detto non la conosciamo non la riconosciamo questa nave da quello che ci dice la nostra guardia costiera ha fatto una cosa molto scorretta cioè era una nave che era a largo delle acque della Libia ha preso dei migranti a bordo la guardia costiera della Libia ha detto dateli a noi che li riportiamo in Libia e loro hanno detto no ce ne andiamo e si sono opposte all'azione di salvataggio della guardia costiera libica con cui noi collaboriamo ogni giorno per evitare che ci siano i traghettamenti ora io sono il primo che dice che la nostra guardia costiera la nostra maria militare devono salvare in mare chi sta affogando ma una cosa è il salvataggio una cosa è il traghettamento senza neanche collaborare con le autorità per me ci sono due strade per la lifeline cioè questa nave con migranti a bordo con persone tra l'altro disperate che vengono da zone dell'Africa sub-sahariana e vorrebbero venire in questo momento in Europa o aprono i porti Spagna, Francia o Malta che in questo momento ci stanno facendo la morale ma dimostrano tutta la loro ipocrisia oppure noi la facciamo arrivare nel nostro porto ma poi la sequestriamo perché è una nave che batte bandiera a quanto sappiamo falsa e quindi è una nave con bandiera pirata una nave fantasma la si potrebbe chiamare in ognuno dei due casi questo problema va risolto perché una cosa è che facciamo i salvataggi noi con la nostra marina e la nostra guardia costiera è una cosa è che si sta facendo il traghettamento di persone dalle coste africane, le coste europee ma poi sempre italiane sono Assolutamente C'era Veronica Gentili che voleva porle una prima domanda Ministro, lei dice che Francia appunto che in questo momento l'Italia non è stata isolata però Francia e Spagna con Sanchez e Macron utilizzano dei toni molto duri si parla di atteggiamento egoista atteggiamento disumano lei pensa che questo non può creare realmente una crisi tra i paesi europei? Cioè che ai toni corrispondano delle crisi reali o è propaganda anche lì? No, io le dico che qui noi facciamo sul serio Vede, in questo periodo lo leggo anche nel servizio che ho visto molti dicono ma Di Maio deve surclassare Salvini Salvini surclassa Di Maio Conte oscurato qui noi siamo tutti d'accordo e compatti come governo nel cercare di risolvere questa questione dell'immigrazione anche dicendo chiaramente no agli altri paesi quando ci vogliono propinare un'altra fregatura e su questa compattezza di governo a quanto state vedendo sta venendo giù tutta quella narrazione dell'Europa solidale l'Europa che bisognava sempre rispettare io rispetto un'Unione Europea che dà una mano ai paesi in difficoltà quando vedo la Francia e la Spagna e ci fanno la morale ricordatevi sempre che fino a prova contraria anzi ricordategli che noi i porti li teniamo ancora aperti perché le nostre navi della Guardia Costiera stanno aiutando ancora chi veramente sta affogando nel Mediterraneo loro i porti ce li hanno chiusi sia la Spagna che la Francia hanno fatto l'operazione con l'Aquarius l'immagine in cui hanno accolto una nave e hanno anche festeggiato ci dispiace non aver festeggiato sempre anche noi italiani perché avremmo dovuto festeggiare ogni 6 ore ogni 4 ore visto che nei nostri porti sbarchano continuamente quindi io credo nel fatto che la situazione europea sia difficile ma perché è difficile? perché quando sento Angela Merkel dire bisogna aprire a accordi tra stati si sta chiaramente dicendo che evidentemente l'Europa sul tema immigrazione non c'è e allora se non c'è allora quello che noi stiamo affrontando come emergenza ci deve essere riconosciuto non è che ci vengono ad attaccare noi un modo lo troviamo per risolverlo perché la Libia è una realtà che noi possiamo stabilizzare possiamo potenziare la guardia costiera libica un modo lo troviamo però poi allora andiamo a rivedere i 20 miliardi di euro che diamo ogni anno all'Unione Europea come italiana si andrà a rivedere tutti i finanziamenti che vengono dati dal nostro paese all'Europa è chiarissima la posizione del Ministro Di Maio al quale voglio fare ascoltare una domanda questa volta non la poniamo noi ma la facciamo porre dalla gente da una persona che abbiamo incontrato per strada ne ascolteremo diversi oggi eccola qua Onorevole Di Maio sono Cleidis studente di 23 anni all'Università di Studi di Milano sono albanese e studio qua da 5 anni ormai in regola col permesso di soggiorno volevo farle una domanda lei appoggia la posizione del suo alleato Salvini a lasciare tutti i migranti al mare e lasciare che altri paesi europei trovino una soluzione per loro? La domanda di questo giovane studente albanese era un po' provocatoria in sostanza ha già risposto Ministro Di Maio No, no, ma ci tengo a rispondere perché questa è la narrazione che si sta facendo prima di tutto la Guardia Costiera in mare la sta comandando il Ministro Toninelli che è il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli che è del Movimento 5 Stelle e ci stiamo assicurando sempre del fatto che donne e bambini vanno sempre portati anche se stanno su una ONG vanno portati al porto donne incinte e bambini soprattutto quando ci sono dei rischi in mare sono le navi della nostra Guardia Costiera che stanno salvando le persone in mare probabilmente anche in queste ore quindi non è vero che lasciamo le persone in mare altra storia invece se le organizzazioni non governative che non rispondono più a nessun input neanche quello della Guardia Costiera libica pretendono di venire nei porti italiani sfidando il governo con i loro tweet dicendo vieni qui no, noi vogliamo andare per forza nel porto italiano abbiamo gli altri paesi europei che ci dicono l'Italia risolva il problema beh, allora a questo punto della situazione è chiaro anche dire non è che noi lasciamo le persone in mare aspettando che qualcuno risolva no, noi diciamo all'Unione Europea rispettate le regole la nave Lifeline quella lì che abbiamo citato e che sta a largo di Malta neanche è stata gestita dalla Guardia Costiera italiana ed è nelle acque maltesi dovrebbe essere Malta ad aprire il suo porto e sta dicendo di no Malta è nell'Unione Europea ma la cosa da Ministro dello Sviluppo Economico mi rammarica di più noi a Malta diamo l'energia c'è un cavo che parte da Ragusa e va fino a Malta è un cavo che gli dà l'energia questi neanche ci rispondono e ci dicono almeno un'imbarcazione la aiutiamo noi è veramente assurdo questa cosa è un paradosso certo voltiamo pagina Ministro parliamo di di amministrative ieri c'è stato il ballottaggio gli italiani sono tornati alle urne i risultati rafforzano questo governo giallo-verde? questo governo al di là dei risultati delle amministrative il governo di Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle e della Lega è il governo in fase iniziale col consenso più alto della Seconda Repubblica cioè in tutta la Seconda Repubblica ho visto l'ultimo sondaggio ieri siamo quelli che hanno il consenso più alto questo perché? perché io credo che questo possa essere anche un governo inaspettato che i cittadini non si aspettavano però è un governo votato non c'è un solo volta gabbana non c'è uno solo che ha cambiato casacca e soprattutto è un governo che ha le idee chiare e facciamo squadra sugli obiettivi io credo che il risultato poi delle amministrative di ieri sia storico mi si permetta una cosa il Movimento 5 Stelle corre sempre da solo non per fare polemica ma faccio notare che la Lega invece corre sempre in coalizione noi ieri abbiamo vinto ad Imola che dopo oltre 70 anni è andata al ballottaggio e l'abbiamo tolta a quello che era il PC che poi è diventato il centrosinistra e il PD posso fare l'avvocato del diavolo? avete perso Ragusa? abbiamo vinto abbiamo vinto ad Avellino che era il regno della DC di Remita e dopo 70 anni sono passati dalla prima alla terza repubblica senza passare per la seconda ci sono stati dei risultati per noi che sono storici poi non è che li voglio esaltare per farmi bello però per noi sono importantissimi perché noi arriviamo al ballottaggio con enormi difficoltà visto che corriamo con una lista e pochissimi fondi gli altri corrono con 7-8 liste insieme e poi vinciamo in Roccaforti dove hanno imperato dei sistemi per anni questo significa che finalmente potremo gestire le tasse dei cittadini in maniera equilibrata e attenta poi sono contento anche per i risultati della Lega questo si conferma un governo che è apprezzato che è sulla strada giusta ed è apprezzato dagli italiani però adesso vogliamo cercare di capire insieme con lei Ministro come intende cambiare le pensioni abbiamo cercato di parlare con un servizio che poi commentiamo dopo i vitalizi passeremo anche alle pensioni d'oro quelle che sono nel contratto e che sopra i 5.000 euro netti vanno tagliate se non hai versato i contributi per avere una pensione d'oro tagliare le pensioni d'oro per finanziare l'aumento di quelle minime Luigi Di Maio insiste su uno dei suoi cavalli di battaglia che ora potrebbe diventare realtà anche se la strada potrebbe essere complicata chi prende assegni alti già annuncia battaglia come il signor Mario oggi che pensione percepisce? da 12.092 lordi arrivare a un netto di 6.918 e proprio l'assegno del signor Mario potrebbe essere toccato dalla riforma voluta da Luigi Di Maio il progetto sarebbe quello di tagliare le pensioni sopra i 5.000 euro misura che riguarderebbe circa 30.000 pensionati italiani secondo il governo si recupererebbe circa un miliardo di euro una cifra che molti contestano secondo un calcolo della società di ricerca tabula infatti il ricavo sarebbe di circa 210 milioni una cifra che per gli esperti sarebbe sufficiente per innalzare le pensioni minime a 780 euro a solo 500.000 anziani molti meno di quelli che dovrebbero essere interessati dal provvedimento cioè tra i 2 e i 4 milioni così in tasca ai pensionati arriverebbero ogni mese solo poche decine di euro in più questo è un diritto acquisito il diritto acquisito in uno stato di certezza resta tale ma per raggiungere il miliardo ipotizzato dal governo bisognerebbe allargare la platea dell'intervento almeno triplicarla o tagliare anche gli assegni da 4.000 euro si tratta di un discorso demagogico perché il ricavato che potrà essere recimolato da questa diminuzione di pensioni d'oro siamo nella frazione di centesimi frazione di centesimi forse no ma la strada per arrivare ai 780 euro mensili previsti dal contratto di governo sembra ancora stretta Ministro Rimaio è inutile sottolineare come gli italiani siano molto preoccupati su questo tema su che fine faranno le loro pensioni abbiamo sentito parlare di taglio delle pensioni ricche di innalziamento di quelle minime ci può spiegare sinteticamente cosa intende fare lei e il suo governo guardi io sulle pensioni d'oro gli italiani non li vedo preoccupati quelli che sono per strada fanno un tifo da stadio che ha dell'incredibile perché questa è prima di tutto un'operazione di giustizia sociale io le dico che la mia più grande preoccupazione da Ministro del Lavoro e delle politiche sociali che riguardano quindi anche tutto il tema delle pensioni è fare in modo che in questo paese non debba più esistere un pensionato minimo che vive sotto la soglia di povertà perché è una contraddizione prima diciamo di stare in Europa l'Europa ci dice che la soglia di povertà è almeno 780 euro al mese e ci sono pensionati a 3-400 euro che cosa voglio fare io prima di tutto prendere tutti i pensionati d'oro sopra i 4.000 5.000 adesso stiamo facendo tutti i calcoli tutti quelli che non hanno versato i contributi per prendere la pensione d'oro di 20.000 10.000 12.000 come quel signore io quel signore non so se ha versato i contributi per arrivare a 12.000 euro lordi di pensione oppure no e prenderli e fare di nuovo il calcolo e dire quanto hai versato tanto ti spetta questo si dice che è un diritto acquisito io lo chiamo privilegio rubato prendo tutti i soldi che taglio da questi privilegi rubati e li metto in un fondo che aumenta le pensioni minime c'è chi dice ma Di Maia recupera solo 1 miliardo solo 800 milioni qualcuno dice 300 milioni vediamo poi vediamo però vi posso dire una cosa più questa gente mi fa la morale dicendo Di Maio stai prendendo in giro gli italiani recupererai solo 200 milioni io prima ho incontrato una persona venendo qui che mi ha detto guarda che anche se gli tagli 10 milioni 100 milioni qui è una questione di giustizia io vi dico che recupereremo ecco le faccio un esempio una pensione da 6 mila euro di quanto intende decurtarla una pensione d'oro per quanto ha versato di contributi quanto ha versato di contributi questa persona cioè come è arrivato a prendere una pensione di 6 mila euro netti al mese e se è tutta retributiva beh vediamo qual è il loro modello per aver preso quei 6 mila euro netti al mese io immagino tante persone ci stanno ascoltando e immagino queste persone hanno visto quella persona che faceva vedere una busta paga pensionistica di 12 mila euro lordi chi li ha mai visti anche in un solo anno di tanti pensionati e vedo che c'è un'apprensione verso questo tema da parte di una parte di casta italiana che combatte me una cosa diceva avere il servizio insieme a tante altre vere per carità diceva non sarà semplice minacciano ricorsi facciano quello che vogliono io poi voglio vedere chi si troverà a giudicare questo ricorso quando dirà agli italiani no togliamo alle minime per ridare ai pensionati d'oro perché io questo meccanismo lo creo anche per una questione di giustizia io taglio quelli d'oro per dare ai minimi perché poi qualcuno si deve prendere il coraggio di tagliare ai pensionati minimi per ridare a quelli d'oro e a proposito di minime adesso sono circa 507 euro fino a quanto le fa salire? allora l'obiettivo che non passa solo per le pensioni d'oro e il taglio dei vitalizi perché poi voglio dare questa notizia anche a chi ci guarda da casa la dia la dia intanto la Camera dei Deputati ha pronta la delibera per tagliare i vitalizi agli ex parlamentari non so il Senato a che punto sia ma il Presidente Fico oggi mi ha detto noi siamo pronti quindi si parte quindi stiamo dicendo che creeremo io vorrei creare un fondo nel bilancio dello Stato che mette insieme i soldi dei vitalizi agli ex parlamentari dei pensionati d'oro e fa aumentare le minime qual è l'ideale di minima 780 euro al mese ci arriverò solo col taglio delle pensioni d'oro e dei vitalizi questo lo vedremo nei calcoli che stiamo facendo ma anche se non dovesse essere lavoreremo a tagliare tutto quello che non serve per garantire una pensione di cittadinanza così io la chiamo ai cittadini italiani sotto la soglia di povertà che sono pensionati anche perché quella è gente che ha lavorato sicuramente molto di più dei pensionati d'oro e sono tantissimi c'è ancora Veronica pronta per un'altra domanda sì a proposito di cittadinanza appunto pensione di cittadinanza reddito di cittadinanza l'associazione viene automatica dopo aver sentito l'intervento che ha fatto il ministro Tria e che è stato molto rassicurante per i più insomma si è capito che non si ha intenzione di sforare il rapporto deficit-pill che non si pensa di aumentare il debito pubblico quindi è stato un discorso rassicurante complessivamente però non si capisce se poi ci sono gli estremi per attuare il reddito di cittadinanza adesso se non altro in tempi brevi guardi io capisco il ministro Tria come la viceministro Castelli che è pure intervenuta su questo tema e tra l'altro è del Movimento 5 Stelle capisco tutte le ragioni contabili dello Stato però bisogna individuare le priorità io le dico con il ministro Tria ma anche il viceministro Castelli hanno detto noi ragioniamo a tra sette mesi e capisco tutte le loro ragioni e non è una polemica con loro ma io devo fare ancora prima cioè devo fare in modo che il reddito di cittadinanza parta il prima possibile questa settimana ci sarà un tavolo a Palazzo Chigi in cui metto insieme i ministri che se ne occupano e dobbiamo fare questo reddito di cittadinanza perché? lo dobbiamo fare perché il vero grande problema che io vedo stando al ministero dello sviluppo economico e del lavoro è la sofferenza della gente voi non avete idea oppure cioè nel senso ce l'abbiamo ce l'abbiamo no mi scusi volevo dire si ha un'idea di quante vertenze e quante crisi aziendali e quanti problemi ci siano poi arrivi lì e ti rendi conto che è tre volte quattro volte più complicata di quella che immagini la situazione abbiamo un sacco di ragazzi ma anche un sacco di cinquantenni e sessantenni che stanno per finire in mezzo ad una strada io non gli voglio dare un reddito per stare sul divano voglio dargli un reddito per dire guarda lo Stato investe su di te tu ti formi per un percorso di lavoro alternativo e poi ti reinserisco lavorativamente e su questo non dobbiamo usare solo i fondi italiani dobbiamo accedere a tanti fondi europei io sono andato al Consiglio europeo l'altro giorno in Lussemburgo e ho detto ai ministri del lavoro di tutti i paesi europei l'Italia ha tre milioni e mezzo di italiani che non possono più mangiare 8,2 sotto la soglia di povertà e 4,7 milioni di italiani sotto la soglia di povertà assoluta questa gente è la mia priorità a proposito di gente ministro per arrivare al reddito di cittadinanza il prima possibile chiedo scusa se la interrompo sentiamo un altro italiano sentiamo un'altra domanda ministro Di Maio sono Clelia e lavoro le domeniche e i festivi vorrei fare una domanda ma lei veramente ha intenzione di togliere il lavoro domenicale no perché come faremo a portare il pane a casa come rispondiamo a questa giovane donna beh si è fatta una narrazione di questa storia come si è detto anche Di Maio ci vuole togliere il diritto allo shopping non lo conosco come diritto però in generale capisco che cosa si voglia dire perché c'è questa idea per cui Di Maio il sabato e la domenica chiude tutti i negozi tutti i negozi chiusi tutto non è questa l'idea l'idea viene da una proposta che addirittura è stata proposta anche dalla chiesa che dice che nell'ambito di tutte le domeniche che ci sono in un anno i rappresentanti degli esercizi commerciali dei negozianti possano concordare con il sindaco un tot di chiusure domenicali a rotazione perché questo succedeva fino a qualche anno fa cioè fino a qualche anno fa i rappresentanti delle varie associazioni che rappresentano i negozianti i commercianti si mettevano d'accordo a livello comunale dicevano noi in queste giornate chiudiamo in queste stiamo aperti poi sono iniziate le liberalizzazioni di Monti che hanno detto potete stare aperti dal lunedì alla domenica senza regole che cosa è successo che alla fine le famiglie dei negozianti non esistono più perché i negozianti stanno sempre chiusi in quel negozio e hanno seri problemi a stare a casa loro questo non significa che chiudiamo i negozi vogliamo solo creare di nuovo un principio di buonsenso per cui si possa chiudere ogni tanto stare un po' insieme ai propri figli perché altrimenti si rischia soltanto di essere schiavi della propria attività commerciale e poi è dimostrato che non è che i ricavi siano aumentati si sono solo spalmati dal lunedì alla domenica prima magari non era più prima era in meno giorni ma i ricavi sono sempre gli stessi e poi mettiamo questa gente commercianti negozianti in competizione con i centri commerciali che non possono competere e questa non è una competizione io sto per farle vedere Ministro qualcosa che riguarda il suo passato e lo proporrò anche ai nostri telespettatori dare lavoro dare lavoro questo era il suo desiderio manteneva la cassa dei risparmi dei propri compagni all'elementare già all'elementare era un ragazzo molto serio e non da il servizio dedicato al passato del Ministro Di Maio curioso ma introverso e con la voglia di cambiare il mondo sin da piccolo così Luigi Di Maio viene descritto dai suoi amici d'infanzia ci siedevamo qui vedi su questa panchina ci accomodavamo così come i due ragazzotti e si discuteva si parlava del più del meno fino a poi toccare anche tematiche che erano quelle che toccano un po' tutti i giovani il lavoro soprattutto perché proprio lui appunto che non aveva un lavoro diceva non è possibile dobbiamo fare qualcosa per creare lavoro ed è proprio da qui da Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli che Luigi Di Maio ha iniziato il suo cammino verso la politica tra i suoi riferimenti c'era anche Don Peppino noi solitamente ci sedevamo qui a questo tavolo cos'è che Luigi le diceva? dare lavoro dare lavoro questo era il suo desiderio discorsi che potrebbero tornargli utili ora che dovrà gestire un dicastero delicato come quello del lavoro e del welfare che manteneva la cassa dei risparmi dei propri compagni all'elementare già all'elementare era un ragazzo molto serio i suoi amici raccontano quanto fosse responsabile già a dieci anni forse è un segno del destino per lui che a soli 31 anni è diventato vice premier sono sempre stato affascinato dall'impegno politico sia al liceo che all'università che nell'associazionismo mi sono sempre proposto ho sempre voluto metterci la faccia al liceo le prime battaglie lui chiese a preside e insegnanti noi non occuperemo più la scuola voi però aiutateci ad ottenere dalla provincia un nuovo edificio e Luigi ha partecipato alla posa della prima pietra chi lo conosce ricorda la sua voglia di dare il proprio contributo e ci svela che da bambino in realtà Di Maio coltivava un altro sogno qui da piccolo diceva sempre da grande avrebbe voluto fare il poliziotto la polizia era una cosa che gli piaceva tantissimo se lo ricorda da piccolo come no che si ricorda è onesto questo è il picciolo è onesto Ministro Di Maio che effetto le fa vedere questa sua storia raccontata per flashback quello che torna sempre è il tema del lavoro come vedete perché io vengo da una zona dove tanti ragazzi ma anche meno giovani soffrono ma stanno male vanno in depressione perché non riescono a trovare il lavoro in nessun modo a volte non hanno neanche la forza di farsi un biglietto per andare a lavorare a Londra e spero che non abbiano mai quella forza perché spero che possano rimanere qui e io ce la devo mettere tutta per ridare dignità a quelle persone l'ultimo che avete intervistato era il mio benzinaio eh sì e a lui oggi ho dato una buona notizia perché domani erano pronti a fare sciopero i benzinai per una norma assurda del vecchio governo che gli imponeva la fatturazione elettronica senza neanche dargli il tempo di preparare le tecnologie per fare la fatturazione elettronica ho riunito i benzinai al ministero oggi pomeriggio e gli ho detto che la rinviamo all'anno prossimo così che loro possano avere il tempo di comprare i computer di scaricare i software di acquistare i programmi per fare la fatturazione elettronica perché questo è un paese in cui sulle imprese si scaricano solo i doveri senza preoccuparsi mai del fatto che siano pronte oppure no ad assolvere a quei doveri e i benzinai mi hanno detto noi siamo pronti a fare tutto quello che volete però ci dovete dare il tempo come tutti gli altri perché non si capisce perché tutti dovranno partire dal primo gennaio con la fatturazione elettronica ma i benzinai è stato detto dal primo luglio il benzinai il suo amico sarà sicuramente felice no vabbè questo penso che tutti i cittadini siano contenti che domani e dopodomani non ci sia uno sciopero assolutamente assolutamente sì c'è Veronica Gentiti che vuole farle un'altra domanda senta ministro lei ci ha tenuto molto a rivendicare proprio come cifra significativa del suo ministero il ritorno ai diritti sociali per i lavoratori quindi per questo anche per lei è stato importante andare al ministero del lavoro e come primo atto simbolico sceglie di fare un decreto che chiama decreto dignità perché la parola dignità cosa vuol dire che tipo di azione di governo intende fare aprendo così perché ci sono tante categorie in Italia che non hanno più dignità perché in questi anni gli sono stati tagliati tutti i diritti per esempio un imprenditore in Italia non vuole fare nient'altro che dare lavoro lavorare e far crescere la propria azienda oggi lo si mette in condizione di chiudere perché non ha abbastanza soldi per fare tutta la burocrazia che serve quindi il decreto dignità avrà quattro punti il primo riguarda le imprese e i professionisti gli eliminiamo un po' di burocrazia una serie di cose inutili che vedrete nei prossimi giorni tra cui tutta sta roba redditometro split payment e altra roba due i ragazzi a un certo punto per farti una famiglia questo contratto a tempo determinato deve diventare indeterminato non te lo possono rinnovare a vita quando ce l'hai a tempo determinato se non è cococo se non è somministrazione lavoro e daremo una stretta alla precarietà io ho dichiarato guerra alla precarietà lo farò con tanti interventi per rivedere il Jobs Act e tutte le sofferenze che ha creato nella gente il terzo punto importante le delocalizzazioni voglio fare questo decreto dignità al terzo punto avrà una cosa scritta semplice che tutte le aziende che hanno preso soldi dallo Stato non se ne possono andare in Turchia in Argentina a spese degli italiani i soldi li devono restituire con gli interessi così vediamo se se ne vanno quarto punto prima avete intervistato Don Peppino il mio parroco che saluto anche da qui Don Peppino è uno di quelli che si occupa delle famiglie no no voglio dirvi una cosa Don Peppino è uno di quelli che si occupa delle famiglie finite nel vortice del gioco d'azzardo e nel quarto punto del decreto dignità vogliamo vietare la pubblicità del gioco d'azzardo perché il gioco d'azzardo esisterà legalizzato per evitare di farlo finire nelle mani delle organizzazioni criminali però non è possibile che appena accendi la televisione hai tutta questa pubblicità perché questa pubblicità sta facendo cadere i più poveri i più disperati nel vortice delle slot machine e del poker online ridare dignità significa affrontare questi temi è un inizio non è nulla non abbiamo fatto ancora nulla ma noi la seguiremo credo che la seguiranno con attenzione tutti gli italiani ministro Di Maio la ringrazio grazie per aver ascoltato il nostro invito grazie per essere stato con noi la aspettiamo ancora mi raccomando fissiamo un altro appuntamento a breve grazie a tutti